buongiorno a tutti ragazzi benvenuti al nostro oracolo di oggi giro le nostre cartine e come sempre i miei studenti se hanno voglia possono mettere in pausa il video prima che io inizi a dare la mia spiegazione e scrivere la loro cominciamo con la carta della compenetrazione e del desiderio a corona beh già queste due carte diciamo che possono anche dare adito a pensare che ci sia per qualcuno di voi barra di noi un qualcosa a sfondo sessuale o perlomeno il desiderio di qualcosa il desiderio che accada qualcosa da quel punto di vista perché la carta del desiderio beh palesemente parla di qualcosa che vogliamo qualcosa che vorremmo e la compenetrazione è una carta che se viene intesa in termini in termini di relazioni interpersonali relazioni amorose e ha un chiaro riferimento con il sesso ma invece se noi consideriamo questo oracolo questa parte iniziale del nostro oracolo come qualcosa di più generale che si può adattare a diverse situazioni questo desiderio di compenetrazione può anche essere inteso come il desiderio che fra noi e qualcun altro ci sia la nascita di un accordo la nascita di un'amicizia di una relazione di qualunque tipo non necessariamente una relazione di tipo sentimentale o sessuale il desiderio magari a volte di entrare nella vita degli altri perché compenetrare che cosa significa in realtà per comprendere bene il termine compenetrare dobbiamo parlare di energia ecco parlare di corpi energetici che cos'è il nostro corpo energetico è un corpo costituito da materia sottile quindi da materia molto poco densa in cui quelle che quelle che costituiscono le molecole gli atomi di questa materia sottile non sono fisici ma sono fatti da una sostanza che non manifesta fisicità e il nostro corpo energetico non solo circonda il nostro corpo fisico ma lo compenetra quindi noi abbiamo questo ovulo che guardandolo da lontano guardando esteriormente un essere umano abbiamo questo ovulo luminoso di energia che circonda l'intero corpo fisico ma anche all'interno del corpo fisico continua ad esserci questo ovulo di energia continua ad esserci questa materia sottile perché ci compenetra ci entra dentro quindi compenetrare il desiderio di compenetrare può essere tranquillamente tradotto come il desiderio di entrare nella vita di una persona o di entrare in una certa situazione di entrare in una determinata condizione anche professionale o con amici o familiare comunque si parla di unione di fusione in un certo senso quindi in questi giorni oggi proprio in particolare vi ricordo che questo video è valido per il momento in cui lo vedete c'è proprio questo desiderio che qualcosa di esterno diventi parte di noi stessi in una sorta di fusione con penetrazione passiamo adesso alle nostre carte ai nostri tarocchi oggi abbiamo un 2 di denari abbiamo la forza e l'asso di denari ed è molto interessante vedere come inizia e come finisce la stesa perché noi cominciamo con un 2 e finiamo con un 1 di denari quindi stiamo facendo un po' un passo indietro numerologicamente parlando sì ma è proprio facendo un passo indietro che possiamo migliorare quello che magari avevamo già iniziato ma non lo avevamo iniziato proprio benissimo è sempre c'è sempre la possibilità di far meglio qualcosa che avevamo iniziato a far così così e soprattutto c'è sempre la possibilità di ricominciare totalmente da capo a fare questo qualcosa con il 2 di denari però il nostro giocoliere sembra che mentre aspetta qualcosa il motivo per cui aspetta qualcosa questo tipo di giocoliere è perché se voi vedete guardate lo sfondo guardate il paesaggio guardate questa nave e guardate il mare agitato cosa significa mare agitato dal punto di vista esoterico il mare l'acqua le emozioni agitate quindi abbiamo un mare abbiamo un mare di agitazione dentro abbiamo emozioni che non riusciamo bene a tenere a bada che non riusciamo bene a controllare quindi con questa carta intuitivamente cosa mi arriva mi arriva che il normale classico significato del 2 di denari che si riferisce al tenere in piedi cose diverse tenere un po' in piedi cose con difficoltà anche perché tirar su due tre quattro palle contemporaneamente come fanno i giocolieri non è semplice ci vuole tanto esercizio e allora noi non è magari da un po' di tempo che siamo abituati a gestire le nostre emozioni più forti più agitate e ormai è diventata quasi una cosa normale come se fosse una routine quotidiana ebbene sì si tratta proprio di gestire queste emozioni mentre una nave che sembra proprio dirigersi verso di noi perlomeno da quello che mi appare nell'immagine è chiaro che facendo lettura intuitiva ognuno vede un po' quello che ha dentro se stesso io in questo caso sto guardando dalla mia prospettiva dal mio punto di vista sto vedendo una nave che si avvicina verso la riva e mentre la nave si avvicina cioè mentre qualcosa sta arrivando nella nostra vita noi siamo come dei giocolieri che cercano di sopportare l'attesa di fare il meglio che possono in attesa appunto che questo qualcosa arrivi per cambiare la nostra situazione di certo c'è un cambiamento in arrivo di certo noi questo cambiamento lo stiamo aspettando posso dirvi però che ce la stiamo cavando alla grande perché comunque questo è un ragazzino molto giovane quindi nonostante noi tutti esotericamente siamo degli adolescenti su questo pianeta cioè vi mi spiego meglio la razza umana sul pianeta terra viene considerata adolescente dal punto di vista evolutivo perché altre razze che vivono nel nostro universo molto più evolute di noi non solo tecnologicamente ma anche spiritualmente gestiscono le loro comunità i loro popoli in modo totalmente diverso cioè non litigano per questioni di gelosia e non hanno problemi perché uno è sgarbato con l'altro hanno già di gran lunga superato queste fasi noi invece siamo ancora come degli adolescenti e questa carta ci sta proprio dicendo che nonostante la nostra giovane età dal punto di vista evolutivo comunque siamo già diventati abbastanza bravi a cavarcela a tenere un po tutto in piedi a evitare che crollino i nostri castelli perché è vero le nostre vite sono spesso davvero in bilico e dobbiamo sempre cercare di tener su cose che altrimenti andrebbero in malora e molti di voi sono bravissimi lo so lo so conosco fra i miei clienti delle persone che io ammiro cioè da un lato vorrei che riuscissero a superare questa fase ma dall'altro lato li ammiro tantissimo perché hanno davvero una capacità di tenere in piedi tutto anche cose che altrimenti sarebbero crollate da secoli da un pezzo magari anche non solo per se stessi ma per aiutare altri per aiutare i propri figli la propria famiglia o il proprio partner o i propri genitori insomma c'è veramente di tutto è solo che più noi siamo in questa condizione di tensione perché per tenere insieme due tre quattro cinque palle come abbiamo detto non è semplice fare i giocolieri più noi stiamo in questa situazione di tensione più comunque da un lato impariamo a starci dentro ma dall'altro lato abbiamo anche l'opportunità di capire che non è una nostra condizione naturale la condizione naturale per l'essere umano è la felicità è l'amore è la gioia su questo pianeta non è così perché perché carmicamente siamo tenuti a sciogliere tanta roba tantissime cose e perché non voglio non voglio approfondire troppo questo tema in questa sede ma è perché comunque noi in realtà siamo comandati barra governati qui non mi sto riferendo a esseri umani mi sto riferendo al fatto che noi siamo governati da entità che vivono su questa dimensione sul piano fisico ma che vivono anche su altre dimensioni sui cosiddetti piani spirituali e questo genere di entità si nutre delle nostre emozioni più negative quindi siccome tutti hanno qualcosa da mangiare e tutti vengono mangiati nella catena alimentare l'essere umano che dal punto di vista biologico ci insegna una scuola è all'apice della catena alimentare perché nessuno lo mangia non è vero anche l'essere umano nutre altre entità semplicemente noi non lo vediamo perché non siamo non sono entità sul piano fisico quindi mentre noi tiriamo via il latte alle mucche prendiamo la lana delle pecore mangiamo le uova delle galline nessuno lo fa con noi no non è vero che nessuno lo fa con noi entità che vivono su piani dimensionali paralleli al nostro invisibili per noi succhiano le nostre emozioni alcuni si nutrono delle nostre emozioni più positive altri si nutrono delle nostre emozioni più negative e potete approfondire il tema per esempio leggendo castaneda che parla tantissimo dei voladores i voladores sono il sono queste entità che si nutrono di noi stessi e delle nostre energie negative e quando noi stiamo male ci godono alla grande fanno banchetto esistono ovviamente tanti altri autori che chiamano queste stesse entità in altro modo io ad esempio nomino spessissimo il professore corrado malanga perché lui da un punto di vista più scientifico e più moderno parla di queste entità come di alieni adimensionali o comunque li definisce alieni che vivono appunto su altre dimensioni ma non importa il nome o il cognome che noi gli diamo esistono queste entità nel mondo esoterico si conoscono da sempre esoteristi gli esoteristi più famosi le hanno da sempre richiamate per i loro scopi prendete ad esempio un alister crowley un ex appartenente della golden down il quale divenne famoso molto conosciuto perché iniziò a praticare quella che viene chiamata magia nera e per praticare questo tipo di magia lui richiamava delle entità che venivano definite egizie per vari motivi e che noi comunque possiamo definire egizie e queste entità poi ubbidivano i suoi comandi ora l'argomento è molto interessante ed è molto complesso quello che voglio farvi sapere che non è vero che nessuno mangia gli uomini gli uomini nutrono così come le mucche nutrono di latte noi noi nutriamo di energia altre entità che ognuno chiama a modo suo ma che se volete potete approfondire tramite tantissimi diversi autori quindi mentre noi siamo qui con il nostro due di denari a cercare di tenere un po tutto in piedi e di sopportare le emozioni una delle cose che dobbiamo sopportare che dobbiamo tenere in piedi tra l'altro sarà proprio in questi giorni una nuova scoperta qualcosa di nuovo che viene a galla che esce fuori alla luce del sole e ci provoca uno scombussolamento a livello emotivo noi non sa non ce l'aspettavamo non eravamo pronti e preparati a questa cosa e quindi questa nuova notizia che noi riceviamo o questa nuova scoperta che noi facciamo ci mette un po in difficoltà ma ce la caviamo ce la caviamo per qualcuno ragazzi solo per qualcuno la nuova scoperta o questa nuova cosa che sta arrivando è proprio il fatto che sta per venire da voi qualcuno sa per avvicinarsi qualcuno e voi lo venite a sapere il la seconda carta che è quella della forza ci mette in guardia e ci dice che nonostante tutto dobbiamo tener duro nonostante tutto dobbiamo stare molto attenti a controllare le nostre emozioni a non lasciarle andare in modo disorganizzato in modo come non dobbiamo lasciare andare le emozioni solo per sfogarci e non dobbiamo dimenticare le cose importanti in tutto questo se riusciamo a mantenere questa condizione di calma l'ultima carta che è l'asso di denari promette non bene ma benissimo perché questo asso di denari ci dice che se noi riusciamo a mantenere davvero il controllo ci troveremo esattamente dove dobbiamo essere a fare esattamente quello che dobbiamo fare e da qui in poi inizieranno le cose a diventare davvero buone per noi quindi che cosa qual è la cosa importante da comprendere semplicemente che dobbiamo star calmi non ci dobbiamo agitare non dobbiamo dimenticare cose importanti e per qualcuno di voi ragazzi se state ascoltando oggi state attenti non dimenticate a casa portafogli chiavi di casa o ombrello qualunque cosa vi serva documenti se c'è oggi qualcosa che dovete tirar fuori da casa e portare con voi fatelo attenti controllate la borsa due volte prima di uscire ora a questo punto io credo che se noi mettiamo insieme quello che abbiamo visto nei nostri tarocchi e quello che abbiamo visto nelle nostre carte a corona che sono tarocchi egizi noi in effetti abbiamo questo desiderio di entrare a far parte di qualcosa di importante abbiamo il desiderio di aggiungere qualcosa alla nostra vita e abbiamo l'opportunità per farlo semplicemente rimanendo calmi e rilassati e non perdendo la calma adesso però andiamo a vedere più nello specifico che cosa accade nelle relazioni sentimentali quindi andiamo a vedere sia per chi è in coppia sia per chi è single che cosa accade fra il sacro maschile e il sacro femminile che non significa uomo e donna strettamente ma significa solo che stiamo canalizzando uno dei due canalizza più un'energia maschile e uno dei due canalizza più un'energia femminile qualcuno potrebbe domandarsi ma è sempre così è sempre un uno dei due più maschile uno dei due più femminile sì non per questioni di sessualità ma per questioni energetiche l'uno è fatto da una metà di energia maschile e una metà di energia femminile quindi in qualunque coppia indipendentemente dal fatto che sia composta da uomo e donna oppure due uomini o due donne o un extraterrestre è un un x non importa comunque c'è sempre una distribuzione fra energia maschile ed energia femminile o uno dei due canalizza più quella maschile e l'altro quella femminile o entrambi manifestano un po di tutte e due quindi andiamo un po a vedere adesso che cosa sta succedendo da queste parti il nostro sacro maschile in questo momento sembra abbastanza coraggioso abbastanza impavido pronto a superare tutte le difficoltà della vita è pronto a raggiungere i suoi obiettivi però qual è il problema il problema è che è troppo facile così perché è vero che il maschile è coraggioso e non ha paura ma il motivo per cui questo sta accadendo è perché non vuole impegnarsi in cose serie non in questo momento perlomeno qui abbiamo un maschile che vuole prendere le cose con calma con leggerezza anche se si tratta di giocare appunto anche se si tratta di giocare e purtroppo per qualcuno si tratta di prendere in giro solo per qualcuno non ci agitiamo è ovvio che esistono i casi più estremi e nei casi più estremi ci sono di mezzo anche altre persone ragazzi bisogna dirlo ci sono proprio non è nemmeno una cosa fatta poi così nascosta sembra che non questa persona non si impegni poi nemmeno più di tanto a nascondere le proprie bugie o i propri inciuci invece per quanto riguarda il sacro femminile il sacro femminile non è stupido e capisce quando il sacro maschile non è totalmente onesto qualcuno sta ignorando l'altro c'è forse una fase in cui uno dei due sta ignorando l'altro perché sta cercando di far di dare la sensazione che l'altro non sia poi così importante ebbene non è un problema non è assolutamente un problema perché comunque perché comunque va bene siamo pronti ad accettarlo va benissimo così il sacro femminile sa quello che vuole e sa come ottenerlo e sa come fare e sa che non deve nemmeno avere fretta perché se una cosa è destinata è destinata allora adesso il sacro femminile sta diventando molto più forte ha smesso tra virgolette di lamentarsi il sacro femminile pronto a fare sacrifici questo è chiaro ma è anche pronta a chiudere e passare oltre che si tratti di un passare oltre momentaneo perché poi il femminile furbo il femminile lo sa che se passa oltre per molti di voi ovviamente non per tutti ma per molti di voi se il femminile passa oltre il maschile appena capisce che sta perdendo qualcosa torna indietro va a prenderlo di nuovo ma anche quando questo non dovesse essere il caso anche lì dove il femminile sa che rischia di perdere qualcosa ormai il femminile sa che può solo guadagnarci perché perde qualcosa che non va e quindi può entrare nella sua vita qualcosa di nuovo e di più adatto qualcosa di migliore e il sacro femminile è pronto anche a farlo questo sacrificio perché si si tratta di un sacrificio il lasciare andare non è semplice ma va bene va bene questo è anche fa parte del crescere fa parte del diventare adulti fa parte dell'imparare dagli errori e cambiare e adesso angeli che cos'altro avete voi da aggiungere per noi comuni mortali qui su questo pianeta cos'altro avete da dire come potete aiutarci che suggerimento potete darci e intanto ragazzi chi vuole una lettura privata o un pacchetto o vuole info sui videocorsi potete contattarci a tutti i link o i numeri che trovate qui in giro scritti 5 di aria e va bene allora il consiglio è quello di imparare tutto quello che possiamo da questa situazione cioè cerchiamo davvero di sfruttare al massimo perlomeno gli eventi dal punto di vista degli insegnamenti che ci stanno trasmettendo perché in effetti qualcuno ha fatto una scelta poco saggia ormai questo è chiaro e però condannare giudicare criticare non serve assolutamente a niente anche questo è chiaro quindi piuttosto cercate di pensare alle ragioni per cui ciascuno ha fatto le sue mosse cercate di ricordare tutto quello che è accaduto pensando appunto ai motivi che hanno spinto ciascuno a comportarsi così e imparate tutto quello che potete mettetevi nei panni dell'altro e nonostante sia stata fatta una scelta poco saggia è vero che questo ovviamente può rallentare ritardare le nostre cose i nostri interessi però allo stesso tempo ci sta anche dicendo dove non dobbiamo più sbagliare dove non dobbiamo più fare gli stessi errori ed è sicuro che da adesso in poi noi gli stessi errori non li faremo più quindi ragazzi io spero come sempre di esservi stata utile vi mando un abbraccio grandissimo vi auguro una splendida giornata noi ci vediamo a domani mi raccomando comportatevi bene divertitevi e un bacione da forte ventura